bello a tutti ragazzi benvenuto a un nuovo video sono reda e volevo informare che stasera sarò in live verso le 6 stasera tra qualche oretta sarò in live su twitch mi troverete metterò il link in descrizione guardate che bel personaggio adesso vi spiegherò com'è quello di questo colore anche ve lo faccio vedere un'armatura in pelle poi dovete prendersi tintura verde e altri colori ragazzi poi schiacciare triangolo andare verso il tipo di stivai schiacciare tante volte quadrato anche qua nei pantaloni cambiate i colori e per tutte varie mi raccomando mettete un like iscrivetevi al canale e ci vediamo dopo con la live bella ciao 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 ciao